12 città e paesi del sud Italia si sono riuniti a Torre di Ruggero per celebrare Santa Domenica di Tropea in un evento che ha visto la partecipazione di numerose autorità e delegazioni. Una rete nazionale nel segno della fede della patrona che unisce queste comunità. Ma non solo, l'obiettivo condiviso è anche quello di sviluppare progetti turistico-culturali che possano valorizzare il territorio. La due giorni di celebrazioni è stata inaugurata con un incontro pubblico nella sala consigliare presieduto dal sindaco di Torre di Ruggero Vito Roti alla presenza dell'arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace Monsignor Claudio Maniago, del vicepresidente della provincia di Catanzaro Francesco Fragomele e del vicepresidente della giunta regionale calabrese Filippo Pietro Paolo. Tutti hanno sottolineato l'importanza della collaborazione interregionale per promuovere le tradizioni e il patrimonio turistico, culturale e religioso del sud Italia. Sì, un'edinella fede oggi a Torre è la settima tappa del peregrinazio della lampada votiva dedicata a Santa Domenica di Tropea e ovviamente questa rete, abbiamo creato una rete circa un anno fa nasce con l'obiettivo sì di incrementare quello che è il percorso di fede ma anche di scambio di idee, di nuovi progetti, di promozione di tutti i nostri territori. La presenza delle municipalità oggi del Vescovo e anche di esponenti politici a livello regionale non solo dimostra questo, stiamo diventando davvero un polo di attrazione turistica molto importante non solo ovviamente per Santa Domenica ma anche per il nostro santuario di Maria Santissima delle Grazie che come sappiamo tutti attrae tanta tanta gente.